Mario, parlo giocato. Adiamo! Adiamo! Praticamente c'è poco da dire, io non ho paroli. Non ci sono paroli. Chi dà il tessuto a favore? Chi dà la favore tra i giudizi? Che dobbiamo dire? Dobbiamo dire solo che bisogna controllare tutti i pagamenti. Questa è l'unica cosa. Siamo stati esclusi dal nucleo attorico di Piazza Pagani, alcualmente in Via dei Cassari. Il numero previsto sul Via dei Cassari, inizialmente i ravvinati sette, dopo ci sono detto che ci entravamo tutti quanti e invece abbiamo assistito al misterioso distruggimento del mercato. I posteggi disponibili del mercato a riprodurre sono diventati vendi, hanno escluso di fatto gli ultimi quattro per un'anzialità di licenze, che non abbiamo perché. Le nostre licenze siamo persone ormai anziane e non abbiamo avuto diritto a farlo fa. Ci siamo messi adesso via Salvelli, che doveva essere e deve essere, come dice il sindaco, avremo il mercato a riprodurre. Ora, visto che non possiamo entrare in Via dei Caspari, vorremmo che quando prima tutti quelli che possono ci facciano, ci dia la possibilità di entrare in questo mercato. Adesso non stiamo vendendo niente, stiamo diventando pacificamente con i nostri banchi tutti. Io appello a tutti quanti, alle forze dell'ordine, al prefetto di Foggia, e a chi viene altri del mercato, perché è scandalo solo. Cioè, sono 64 giorni che pur essendo alimentari non riusciamo a vendere. Altri commercianti, tutto lo facendo, negli altri mercati. tutto qua, questo è quello che possiamo dire adesso. E io che devo dire? Quei bulletri già, non ce l'ha parlato a noi. Allora, ci stanno le radio del mondo, la luce, il gas, io non so come fare. Praticamente non sappiamo come muoverci. I soldi non ce ne danno. Non so che cosa dire, ti giuro, non mi escono le parole. Sì. 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 Questa è l'ordinanza del Sindaco del 3 marzo, in cui dice che bisognerebbe fare il mercato di via, di via del Pepe. scarico. Che parla? Non si costa l'alto, non si costa l'alto, non si costa l'alto, non si costa l'alto, non si costa l'alto. Sì. 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 Quanti costi ci fai? Sì. Sì. Ma ci rendiamo? Chi mi ha sentito umiliato per lavorare? Mi devo sentire umiliato per lavorare? Ma che stiamo pazziando? Sì. 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 Purtroppo dopo di non me lo so, stiamo solo qua. Sì. 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 Sì.